Storie che possono aiutare a comprendere, analizzare e favorire il cambiamento. Un cambiamento che riguarda le donne che aspirano non solo a partecipare al mondo, ma a essere parte attiva nel riformarlo. Questa è stata la due giorni, con dibattiti e incontri, svolti a Gubbio tra il Caffè del Tato Romano e Piazza San Giovanni del Festival Città delle Donne Preview, organizzato dall'omonima associazione Assieme al Comune di Gubbio per un'idea nata originariamente da tre donne, Giorgia Gaggiotti, Valentina Pigmei e Vanessa Znar, per un programma progettuale che si è via via evoluto, nonostante le complicazioni legate al Covid. È un festival che vuole scardinare pregiudizi e stereotipi di genere. È un festival che magari ha anche un po' la presunzione di voler educare al cambiamento. Abbiamo portato delle grandissime storie, abbiamo portato delle donne incredibili che con il loro esempio potranno sicuramente ispirare molti. Tra le storie, quella narrata dalla regista e scrittrice Roberta Lena, che ha raccontato nel libro Dove sei, il percorso di maturazione è tutt'altro che facile e scontato di una madre alle prese con una figlia che è partita per andare in guerra, per capire anche cosa gli adulti possano imparare dai più giovani. Io ho tanta fiducia nei giovani di oggi, anzi credo che la mia generazione dovrebbe semplicemente fare un passo indietro e aiutare e sostenere le cose che stanno facendo i giovani oggi perché sono molto più avanti di noi. Bisogna solo che li aiutiamo, li aiutiamo perché hanno bisogno del nostro aiuto per avere ascolto, per avere forza. Nel mio libro arrivo a questa consapevolezza. Quindi la fumettista, fumetti brutti, al secolo Iosefin, Iole Signorelli e la sua storia gender fluid nel docufumetto Pipunto, la mia adolescenza transa, fino ad arrivare alla giovanissima scrittrice italoganese Jara Khan che con la sua opera prima, Ladri di denti, entra sotto pelle tra le parole razzismo e straniero approfondendo soprattutto, in tal senso, il tema nel pianeta femminile. Sicuramente vuol dire resistere, vuol dire essere scomode, vuol dire trovare degli spazi in cui poter esistere, in cui essere visibili, vuol dire cercarsi, quindi non stare mai da sole ma ovviamente fare rete con altre persone che vivono queste esperienze e che tutto quello che vorrebbero poi alla fine è cambiare lo status quo delle cose, ovvero cercare di immaginare, di vivere un mondo dove non esistono più le etichette di nera, di donna, ma solamente di esseri umani. E se le donne che superano i propri limiti e la propria comfort zone sono spesso per eccellenza le sportive, non poteva mancare alla Città delle Donne una campionessa come Irma Testa, la prima pugilessa italiana ad accedere a una competizione olimpica con tanto di proiezione del film Butterfly che ripercorre la storia della boxer di Torra Annunziata. Per me è un piacere e un onore ogni volta presenziare e partecipare ad eventi dove si dà lustro e voce alle donne e ai talenti delle donne dove ancora oggi, nel 2020, rispetto agli uomini siamo ancora un po' in silenzio, passano i nostri risultati. E la due giorni appena archiviata è stata solo l'assaggio del Festival Vero e Proprio che si terrà a marzo 2021 per alimentare un percorso coerente e continuativo di educazione alla parità di genere come testimoniato anche dal protocollo d'intesa firmato da organizzatori e amministrazione proprio per costruire un progetto duraturo e solido. Questi due giorni sono soltanto un assaggio di quello che sarà poi il Festival di Marzo un festival che vuole diventare un punto di riferimento annuale un appuntamento al quale tutte le donne e tutti gli uomini che vorranno partecipare sapranno di poter prendere parte ad un ampio numero di dibattiti ad un ampio numero di incontri, di appuntamenti un dibattito che non si deve mai fermare, che non si può mai fermare perché quello dei diritti delle donne è una lotta e un lungo cammino che dobbiamo continuare a combattere giorno dopo giorno tutte insieme e tutti insieme.